a cannala! lo faremo noi? vai è che un bel collo deve avere gestito ah oh, cucina e cacina, cacina in tutto no? io sono raccomandato come sta salina ralla di fregna rara buongiorno nonostante la tumefattanza della domenica mattina io mi sono ricordato una cosa noi stiamo a Roma a un webfest e ci stanno le stellette e dai, metteteci cinque stellette così a buffo, via mettici cinque stellette Dani, sto sulla strada di quelli famosi quelli con le stelle